Ciao. Oh, ciao, ciao. Eh, beh, addio. Tu giochi molto bene? Sì, anche tu. Oddio, ma che cosa scema da dirsi. Tu mi dici che gioco molto bene e subito io... Devo dire a te che giochi bene, oh. Addio, Enni. Beh, la di da, la di da, la la la. Beh, vuoi un passaggio? Oh, perché? Hai la macchina tu? No, io avrei preso un tassi. Oh, no, io ho la macchina. Tu hai la macchina? Allora, non capisco, se hai la macchina, allora perché mi hai chiesto hai la macchina, come volessi un passaggio? Eh, io non... Io non lo so, oddio, io... Io ho la Volkswagen là fuori. Ma che cretina sono...